Oggi voglio trattare il soggetto, la seconda parte della serie La Grazia di Dio. Parleremo di colpa e grazia. La Bibbia dice che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. A certo punto nella nostra vita tutti dobbiamo dire che siamo colpevoli. Ci sono cose con cui tutti stiamo lottando, siamo tutti sulla stessa barca. L'Apostolo Giacomo dice nel capitolo 2, versetto 10, Giacomo 2, 10, chiunque infatti osserva tutta la legge ma la trasgredisce in un punto solo, si rende colpevole su tutti i punti. Ovviamente quando si tratta del modo in cui valutiamo la colpa ci sono diversi gradi di colpa. Alcuni crimini meritano una punizione maggiore di altri, questa è giustizia. Ma abbiamo a che fare con il tipo di giustizia di Dio che è diversa dalla giustizia dell'uomo. Giacomo sta dicendo che si tratti di un peccato di molti nella nostra vita siamo tutti colpevoli, abbiamo peccato tutti e siamo tutti sulla stessa barca. Cosa è il vero senso di colpa? Qual è la differenza tra il vero senso di colpa e un falso tipo di colpa? Perché cari siamo bersagliati da pensieri che vogliono captevarci ogni giorno. A volte sono pensieri brutti che ci fanno sentire male e a volte sentiamo questo senso di colpa. Ma quando è vero e quando è falso? Vorrei parlare di come i nostri modi di affrontare questa colpa differiscano notevolmente dal modo di Dio di come lui affronta la colpa. Per prima cosa è il senso di colpa? Davide il salmista ha detto, Salmi 38, versetto 4, poiché le mie inequità, cioè il mio senso di colpa sorpassano il mio capo. Sono come un grave carico, troppo pesante per me. Cari, abbiamo tutti attraversato quella sensazione. Quando pensiamo spero che nessuno scopri quello che ho fatto e ci sentiamo colpevoli. Lo scopo del senso di colpa non è quello di farci sentire male. Dio ha uno scopo più grande quando ci dà il senso di colpa. Il senso di colpa è una spia di avvertimento. In realtà ci avverte, c'è qualcosa che non va, qualcosa che deve essere risolto. È come la spia che si accende sullo strumento della tua auto, che dice che qualcosa non va. Quando si accende quella luce rossa sullo strumento dell'auto, significa che qualcosa sta malfunzionando. Possiamo rompere quella luce che si accende nell'auto, ma non aiuta il problema. Possiamo coprire quella luce, ma non aiuta il problema. No, quella spia è per il nostro bene, perché ci sta avvisando che qualcosa deve essere risolto. Tutti noi abbiamo diversi modi di affrontare questa luce di avvertimento che Dio manda nella nostra vita, ma la verità è che se qualcosa non va bene, la cosa migliore da fare è risolverla. potrei provare a riparare l'auto da solo, ma non sono bravo in quello. Quindi ho bisogno di riportarlo al produttore, a colui che ha messo insieme quella macchina, al manuale di istruzione. E questo è ciò che dobbiamo fare nella nostra vita. Questo è ciò che dice la spia luminosa quando appare nel nostro cuore. Hai bisogno di un po' di tempo con Dio, hai bisogno di Dio per guarire questa situazione. Questa è la luce di avvertimento che Dio sta portando. Ora ci sono due tipi di colpa. C'è colpa genuina, il vero senso di colpa che viene dallo Spirito Santo in noi, perché abbiamo fatto delle cose sbagliate che hanno ferito a noi stessi, hanno ferito agli altri, hanno ferito il cuore di Dio. Allora il senso di colpa ci fa consapevoli del male che abbiamo fatto e ci porta al pentimento. Ma c'è anche il falso senso di colpa che ha a che fare con qualcosa che non sta funzionando bene. E Satana ci mette dei pensieri cattivi nella nostra mente. Questi pensieri che feriscono, scoraggiano, ci fanno sentire come arrenderci non buoni a nulla, ci fanno pensieri che sono del continuo negativi, che vogliono abbatterci. Questo è un falso senso di colpa. Il falso senso di colpa ci fa sentire del continuo indebito, che ci fa sentire che dobbiamo sempre pagare per il torto di qualcuno. Il falso senso di colpa è lì perché non riusciamo a superare il nostro passato. Molte volte lottano con falsi sensi di colpa. Tante persone non puoi perdonare te stesso, anche dopo che Dio ti ha perdonato. Ecco perché l'Apostolo Paolo ha detto ai Galati, capitolo 3, versetto 3. Siete così insensati? Dopo aver cominciato con lo spirito, volete ora raggiungere la perfezione con la carne? Il falso senso di colpa ci porta a aiutare la situazione con le nostre forze, ma il senso di colpa che viene da Dio ci porta ad essere arresi nelle mani di Dio. Come faccio a capire la differenza tra colpa reale o colpa falsa? Tre prove che ci aiuteranno a determinare, a discernere il vero senso di colpa dal falso senso di colpa. Per prima, l'attenzione sulle persone o su Dio? Dr. Paul Tournier ha detto la falsa colpa è ciò che viene come risultato di giudizi e suggerimenti delle persone. La vera colpa è ciò che deriva da ciò che Dio pensa della situazione e non da quello che pensano le persone che ci giudicano. Il falso senso di colpa ci porterà a diventare una persona che va cercando approvazione degli altri, che vuole sempre essere approvato dalle persone per sentirsi meglio. Un altro filtro per sapere se la sensazione è da Dio il senso di colpa è da Dio o da Satana? È questa sensazione vaga o è specifica? Quasi sempre, quando è il vago, nebbioso, senso di colpa, è Satana che parla a noi e non è Dio, perché Satana vuole mantenerci nella confusione. Dio non è l'autore di confusione. Quando Dio vuole parlarci di qualcosa, Dio è preciso, puntuale. L'altra cosa che dobbiamo mettere a conto, se si tratta di un senso di colpa vero o falso, si tratta di regole o di relazioni. Quando stiamo lottando con un falso senso di colpa, la grande sensazione è ho infranto delle regole, dei riti, ma quando stai lottando con un vero senso di colpa, la sensazione è ho fatto del male a qualcuno, ho fatto del male a Dio, ho ferito mia moglie, ho ferito mio marito, i miei figli, il cuore di Dio è stato rotto a causa di quello che ho fatto. Perciò il vero senso di colpa non ha a che fare con le regole, ma ha a che fare con le relazioni. La Chiesa diventa dovere piuttosto che desiderio per le persone che hanno un falso senso di colpa. Invece la Chiesa deve essere una gioia, non un peso. Tom Oly Dye, un predicatore cristiano di fama, ha detto la falsa colpa ci rende ciechi all'opera miracolosa di Dio e ci lega alle regole meticolose delle persone. Lasciatemi parlare dei diversi modi in cui possiamo gestire il vero senso di colpa. Come gestire questo senso di colpa? La Bibbia dice che se cerchiamo di gestirla nel nostro modo, umanamente parlando, è come Adamo ed Eva gestirono il loro senso di colpa. Infatti dopo che Adamo ed Eva peccarono la Bibbia dice, Genesi 3,7, che cucirono insieme foglie di figo e hanno fatto qualcosa per coprirsi, fecero delle cinture. E poi nel versetto 12 dice, Genesi 3,12, che si nascosero dal Signore, avevano paura perché erano nudi e dissero che è stata Eva che gli aveva dato dall'albero per mangiare. spesso noi, secondo questi due versetti, spesso noi rispondiamo con vergogna. Ma cari, la vergogna non funziona. Adamo ed Eva cucirono foglie di figo e cercarono di nascondersi. Oppure rispondiamo con nasconderci. Adamo ed Eva si nascosero da Dio tra i cespugli, come se Dio non potesse potesse vederli. È come cercare di mettere la mano sulla luce degli strumenti che appare sull'auto, fingendo che nulla stia andando male. Cari, quello non è la soluzione. E altre volte incolpiamo gli altri. Perciò ci sono questi tre modi che cerchiamo di risolvere il senso di colpa da umani. Ci vergogniamo, ci nascondiamo o incolpiamo gli altri. Infatti Adamo incolpò Eva, Eva incolpò il serpente. E questo lo facciamo tutti. Tentiamo ad incolpare la nostra via d'uscita dalle cose sbagliate che abbiamo fatto. Ora Dio ha un modo diverso di affrontare il senso di colpa. Qual è il modo di Dio di gestire il senso di colpa? Uno dei versetti più belli della Bibbia. Prima Giovanni 1,9. Se confessiamo i nostri peccati, Dio è fedele e giusto da perdonare i nostri peccati e da purificarci da ogni iniquità. Ecco come nel Signore affrontiamo il senso di colpa che ci fa ammalare, che ci divide e che ci fa a pezzi. Li confessiamo, confessiamo i nostri peccati a Dio. Non dobbiamo andare a confessare a nessun altro ma a Dio. Come confessiamo i nostri peccati? Basta dire a Dio che siamo colpevoli. Dì a Dio come è andata la situazione. Dì a Dio come è successo. Tanto vale dirglielo perché egli già lo sa. Salmo 69, versetto 5. O Dio, tu conosci la mia stoltezza e le mie colpe non ti sono nascoste. Quale stoltezza nasconderci dal Signore? Non c'è niente di più difficile che cercare di nascondere qualcosa che Dio già sa che non può essere nascosto. Dobbiamo essere onesti e trasparenti con Dio. La Bibbia ci incoraggia però non soltanto dirlo a Dio ma anche dirlo ad un amico spirituale fidato. Infatti Giacomo 5,16 dice confessate dunque i vostri peccati gli uni agli altri. Pregate per gli uni agli altri affinché siate guariti. La preghiera del giusto ha una grande efficacia. Care, confessare i nostri sbagli gli uni agli altri, i nostri peccati gli uni agli altri non è una cosa male ma ci aiuta alla nostra guarigione interna. Quindi dobbiamo dirlo a Dio per prima ma poi possiamo dirlo anche ad un amico. Ora la seconda parte di prima Giovanni 1,9 ci ricorda di sperimentare veramente la grazia di Dio. Se confessiamo i nostri peccati egli è fedele e giusto e ci perdonerà i nostri peccati e ci purificherà da ogni iniquità. Perciò Dio è fedele e giusto e questo ci porta al punto successivo di come gestire il senso di colpa come Dio lo fa. Dobbiamo confidare nel carattere di Dio. Possiamo contare su Dio, possiamo contare sulla sua fedeltà. Dio è fedele, cari nel Signore. Tu puoi contare su Dio. Amico, amica che ascolti non fa niente quello che tu hai fatto. Puoi contare sulla fedeltà di Dio. Dio verrà incontro a te quando confessi i tuoi peccati e Dio ci aiuterà. Ebrei 10,22. Avviciniamoci con cuore sincero, con piena certezza di fede, avendo i cuori aspersi di quella aspersione che li purifica da una cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura. Cari, il sangue di Cristo Gesù è stato sparso affinché la nostra coscienza colpevole potesse essere pulita, imbiancata. Questo è ciò che la croce ha fatto. Quando ci avviciniamo a Dio e comprendiamo la sua grazia in un modo nuovo, ci libera di diventare la persona che Egli vuole che siamo. Non diventeremo mai la persona che Dio vuole che siamo se manteniamo un senso di colpa. Cari, diventiamo la persona che Dio vuole che siamo attraverso la sua grazia. E poi il prossimo passo che dobbiamo fare per gestire come Dio gestisce il senso di colpa, dobbiamo accettare il perdono di Dio. Accetta il perdono di Dio. Giovanni 3,18. Chi crede in Lui non è giudicato, chi non crede è già giudicato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. Quando crediamo in Cristo, confidiamo in ciò che Egli ha fatto per noi sulla croce, la Bibbia dice che non siamo giudicati colpevoli. Abbiamo la liberazione, siamo tolti da quel peso di colpa. Se hai confidato in Cristo, hai creduto in ciò che Egli ha fatto per te, allora non devi più giudicarti te stesso colpevole quando Dio già ti ha detto io non ti giudico colpevole. Dio vuole per mezzo di Cristo dire sei libero, non sei più colpevole. Tu non lo meriti ma io per la mia grazia ti libero. Non ce lo meritiamo ma a causa della grazia di Dio accettiamo il perdono che Dio ha per noi. Ma questo non significa che non fallerai mai più. Questo non significa che non commetterai mai più un errore. Certo di no, ma in ogni tempo cari troveremo la sua grazia per aiutarci nel momento del bisogno. Dio non solo vuole liberarci dalla nostra colpa, ma vuole usarci in modo nuovo. Questa è la buona notizia della grazia. Amo il Salmo 32 versetto 5 che dice Davanti a te ho ammesso il mio peccato, non ho taciuto la mia iniquità. Ho detto confesserò le mie trasgressioni al Signore e tu hai perdonato l'iniquità del mio cuore. Come sono belle quelle parole. Dio ti ha perdonato. Amico, amica, non è la religione che ti salva. Non è le buone opere che ti salvano. Non sono il denaro che tu dai ai poveri che ti salvano, ma è la grazia di Dio che ci rende innocenti, non più colpevoli. Dobbiamo andare da Dio e dire Dio lo ammetto, ho bisogno del tuo perdono. Sono stanco di provare tutti i miei modi per rimediare. D'ora in poi Dio ti confesserò i tutti i miei peccati e confiderò completamente in te, pienamente in te. E allora sarai libero da un senso di colpa, che ti mantiene in schiavitù prigioniero. Com'è bello essere liberi per la grazia di Dio. Non ce lo meritiamo. Non è qualcosa che è spreggevole perché qualcuno ha pagato per te un grande prezzo, perché tu vali un sacco. Gesù ha dato la sua vita per noi. La sua grazia ci salva. Il suo favore non meritato ci salva. Amen.